Nel nostro tavolo ci siamo occupati di soluzioni tecnologiche per l'assistenza dell'anziano. L'anziano oggi non è un malato, è un cittadino senior che ha diverse esigenze, alcune sul piano sanitario, ma altre sul piano sociale, di integrazione, di formazione, deve imparare a difendersi dalle truffe informatiche, per esempio. E allora il tavolo, che è stato un tavolo magnifico, multidisciplinare, con degli esperti di geriatria, poi anche di diabete, poi anche di altre patologie dell'anziano, però poi tanti tecnici preparatissimi, esperti di giurisprudenza, esperti di organizzazione sanitaria. E quindi abbiamo concluso che una qualunque innovazione deve necessariamente accompagnarsi con una riorganizzazione del sistema sanitario. Una soluzione tecnologica per l'anziano non può guardare solo gli aspetti clinici, ma deve guardare a tutte le esigenze dell'anziano, dunque anche quelle sociali, di integrazione, di interazioni umane, che sono fondamentali. E abbiamo fatto delle proposte su quelle che secondo noi dovranno essere le risposte alle esigenze dei cittadini senior da qui a dieci anni.